Musica Approfondimento di un minimo secondario sul Golfo Ligure per il transito di una saccatura sul centro nord Europa, il cui profondo minimo principale si trova tra le isole britanniche e il Mar del Nord. Sostenuto flusso di libeccio umido e mite sulla nostra regione. In Toscana venerdì 5 gennaio poco o parzialmente nuvoloso, tendenza a nuovo aumento della nuvolosità in serata. Venti moderati occidentali con rinforzi sulla costa e rilievi, mari mossi o localmente molto mossi a nord di Capraia, temperature stazionarie su valori ben al di sopra delle medie del periodo. In provincia cielo nuvoloso, a Lucca e sulla Piana minima 8, massima 11 gradi, a Castelnuovo di Garfagnana e zone montane minima 5, massima 9 gradi, a Via Reggio e sul litorale minima 11, massima 13 gradi, sabato nuvoloso con rovesci a partire dal pomeriggio. Grazie per la visione!